Allora, confusione, camionessa, iologi erotica, eccola qua, la nostra collezione di Mariana, però adesso ho una nuova aromatica nella scuola di con sport, con sport, salite sul patto per voi, tutti i ragazzi, tutti quanti sopra, tutti quanti sopra, allora ragazzi, come sta andando la vostra quarta, torna, 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 come sta andando, fammi sentire, urlate per favore, ammazza, così noioso è stata questa sera, come sta, come sta Piana, allora, voglio presentarvi l'estate con sport, voglio dire che piano piano, ogni anno stiamo crescendo sempre in entusiasmo e anche in numero e di conseguenza vi presento tutta la squadra, abbiamo quasi tutta la squadra, Alessandro Folic, dove sei? Alessandro Folic, sarà in giro facendo qualche cosa di combattente, combattente, allora abbiamo Alessandro Folic da Napoli, però vive a Milano, abbiamo Federica Brugge, mezza Italia qua a Roma, Federica Pedrici, sempre in, diciamo, la zona centrale, Ciro Cermino per il sud, Uara Codruta per il nord-est e Davide Tugnoto per tutto il nord, allora io sono Gil, mi raccomando, ragazzi, e vi ringrazio anche Dettapoto e Max che ci ha aiutato, anche i nostri figli, allora, questo trisoginico sembra semplicemente l'unico divertente, però auguriamo sempre divertente, è molto molto di più, quello che sta succedendo nel nostro corpo aumenta il metabolismo tantissimo, il consumo di 30% soltanto del consumo di ossigeno, non ci ho i dati i settimenti perfetti ancora, noi stiamo facendo test scientifici, ieri una persona è venuta da me, Detturgia, ci deve ringraziarmi che ho perso 50 kg, un ragazzo che lavora con Ciro ha perso 20 kg, io personalmente ho perso 7 kg, si vede in 3 settimane che le persone perdono c'è confluenza del coscio di anche 3 cm in 3 settimane, abbiamo visto delle risultate straordinarie, allora, oltre a essere divertente e funzionale.